Bentornato nel mio canale news. Ultime notizie aggiornate oggi. Giorgia Meloni ha vinto le elezioni, ma nella vita privata aveva già vinto conquistando il cuore del compagno Andrea Gianbruno. Ecco chi è. Della lunga carriera politica di Giorgia Meloni si sa tutto, ma cosa sappiamo della vita privata? La leader di E' Fratelli d'Italia, oltre ad aver costruito una carriera ricca di traguardi cominciando a muovere i primi passi in politica sin da quando era giovanissima, è riuscita a formare anche una famiglia con l'uomo che ha conquistato totalmente il suo cuore. Da anni, infatti, Giorgia Meloni vive una relazione stabile e serena con Andrea Gianbruno con cui ha coronato l'amore con la nascita della figlia Ginevra, nata nel 2016. Ma chi è il grande amore della Meloni? Andrea Gianbruno, ecco chi è il compagno di Giorgia Meloni e padre della figlia Ginevra. Andrea Gianbruno è un giornalista ed è l'uomo di cui Giorgia Meloni si è innamorata formando una famiglia con lui. I due non sono sposati e Andrea che è un giornalista e lavora a Mediaset, è più piccolo della compagna di quattro anni. La coppia ha coronato il sogno di formare una famiglia insieme nel 2016 quando è nata la figlia Ginevra. Punto per la nascita dell'amore tra la Meloni e Andrea Gianbruno, Galeotto è stato uno studio televisivo. A raccontarlo è stato lo stesso giornalista in un'intervista rilasciata ai microfoni di Libero nel 2019. È stato un colpo di fulmine. Una sera è arrivata da Del Debbio, a quinta colonna, dopo una giornata di comizi e aveva fame. La sua portavoce ha tirato fuori dalla borsa una banana, ma dopo due morsi Giorgia è stata chiamata in scena, così me l'ha mollata in mano, scambiandomi per assistente, ha raccontato il giornalista che, tre anni fa, era pronto a scommettere su quello che sarebbe stato il destino in politica della compagna. Diventerà sicuramente la prima premier donna, aveva raccontato Andrea che è stato poi citato dalla stessa Meloni durante il discorso post-elezioni. Voglio ringraziare la mia famiglia, Andrea, mia figlia, mia sorella, mia madre. Tutti quelli per i quali io ci sono stata meno di quanto loro ci fossero per me, le parole della Meloni. Infine, nell'intervista rilasciata a Libero nel 2019, Andrea Gianbruno aveva svelato anche ulteriori dettagli del suo rapporto di coppia, non mi infastidisce essere associato a Giorgia, però ho la mia personalità e il mio lavoro e non le ho mai chiesto niente. Nella coppia l'uomo sono io, non faccio il mammo, non so neppure fare da mangiare. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.